Prima di vedere quello che Cavour farà, cerchiamo di conoscerlo un poco. Ecco la casa dove abita, un palazzo aristocratico dall'imponente scalone e dai saloni dorati. Quante volte per queste scale, molto prima dell'alba, sono saliti con il cappello sugli occhi e il bavere alzato gli emissari dei patrioti, gli informatori, gli agenti segreti della sua politica. Cavour era in piedi ogni giorno prima delle quattro. Quando alle nove il cameriere attraversava i saloni con la colazione del conte, Cavour era già da ore alla scrivania. Alle dieci comincia la giornata ufficiale, il ministero, il parlamento, il re. Ma alle quattro Cavour è di nuovo in questa stanza sotto la grande carta d'Italia per ricevere i diplomatici stranieri. Una mezz'ora di pausa e alle sei è di nuovo qui. Il solito domestico li porta la cena su un vassoio, poi ancora lavoro, tutto solo, fino a mezzanotte. Fra quattro ore sarà di nuovo in piedi. Sembra la giornata di una sceta. Eppure Cavour era un uomo sano, esuberante, che amava la vita, l'aria libera, i salotti, le donne. Ma era completamente assorbito da un grande ideale che costituiva per lui un gioco affascinante. Aveva una salute di ferro e se la logorò lavorando, bruciando di passione ed entusiasmo. Pareva nato per vivere cent'anni, arriverà appena a cinquant'uno.